Capitolo tredicesimo Una mattina di novembre, Denise dava i primi ordini al reparto, quando la serva di Badou accorse a dirle che Mademoiselle Geneviève aveva passato malissimo la nottata e che voleva vedere subito la cugina. Da qualche giorno, la poverina non faceva che deperire sempre più, e da 48 ore s'era dovuta mettere a letto. «Ditele che vengo subito», rispose Denise molto inquieta. Geneviève moriva e la finiva di uccidere l'improvvisa scomparsa di Colombin, il quale, deriso da Claire, aveva cominciato col dormire fuori casa, poi, cedendo alla pazzia del desiderio propria dei giovanotti sorgnoni e casti, divenuto il cane obbediente di quella sguelderina. Un lunedì non s'era fatto più vedere, e aveva scritto al padrone una lettera d'addio sul tono di chi si vuole suicidare. Chissà che in fondo a quella sfuriata di innamorato non ci fosse la furberia di uno scapolo, contentissimo di sfuggire a un matrimonio poco di suo gusto. Il negozio non stava meglio della sua promessa sposa. Il momento di farla finita era scelto bene, e lo citavano tutti come una vittima dell'amore. Quando Denise giunse al vecchio boeuf, l'abadù era sola. Stava immobile dietro la cassa, col suo volto magro e pallido, davanti al vuoto e al freddo silenzio della bottega. Non aveva più nemmeno un commesso, e la serva spolverava gli scaffali, stavano perfino in forse di prenderne una a mezzo servizio. Un freddo buio cadeva dal soffitto. Passavano delle ore senza che una cliente venisse a turbare quella tetragine, e le merci, non più mosse, si guastavano sempre di più per l'umidità dei muri. «Che è stato?» domandò subito Denise. «Genevieve, sta peggio!» L'abadù non ebbe fiato per rispondere. Gli occhi le si riempirono di lacrime, poi balbettò. «Non lo so. Non mi dicono nulla a me. È finita. È pelle finita!» E guardava intorno al negozio buio come se si fosse accorta che sua figlia e la sua casa morivano insieme. I 60.000 franchi ricavati dalla villa di Rambouillet erano stati in meno di due anni ingoiati nel baratro della concorrenza. Per competere col paradiso, che teneva ora anche panni da uomo, velluti da caccia e livree, Badou aveva speso tutto quanto. All'ultimo era stato vinto e domato per le felpe e le flanelle del suo rivale, che erano di un tale assortimento quale non ve ne erano mai stati altri. A poco a poco i debiti erano cresciuti. Come ultimo aiuto aveva ipotecato la vecchia casa in rue della Michaudière, dove fine aveva tanti anni prima fondato il negozio. Non era ormai che affare di giorni. Tutto crollava e se ne andava disperdendosi in polvere, come un monumento barbaro e cadente che il vento, a mano a mano, porta via. «Lo zio è su», riprese con voce soffocata. «Ci stiamo due ore per uno. Come si fa a lasciar sola la bottega? Per quanto...» finì la frase con un gesto. Se non fosse stato per il loro vecchio orgoglio di commercianti che li faceva star dritti davanti al quartiere, avrebbero chiuso. «Dunque... salgo», disse Denise, col cuore stretto da quella disperazione rassegnata che traspariva da tutta la bottega. «Sì, va presto, figlio la mia, t'aspetta. Ha chiesto di te tutta la notte. Ti vuol dire qualcosa?» Ma in quel momento veniva Giubadu. Aveva il viso livido e gli occhi pieni di sangue. Camminava piano piano uscendo dalla camera, col lanzare di uno che esce da una dura fatica. Per un po' si guardarono, senza dir nulla. Poi, volgendosi a Denise, le disse «Fra poco... quando dorme... ci sembra che sia guarita». E da capo ricaddero nel silenzio. Il papà e la mamma si guardavano, poi a voce bassa ridisse quanto soffriva e, senza nominar nessuno, senza rivolgersi a nessuno. «Nemmeno col capo sotto la mannaia l'avrei creduto. Era l'ultimo. L'avevo tirato su come un figlio. Se mi avessero detto «Anche lui ti porteranno via! Lo vedrai andare via anche lui!» avrei risposto «Vol dire che non ci sarà più il buon Dio in cielo». E anche lui se n'è andato. «Ah, birbante! Lui che sapeva tanto bene il vero commercio! Lui che sapeva tutte le mie idee!» «Per una torcia! Per uno di quei fantocci che stanno nelle vetrine dei magazzinacci! È una cosa da perderci la testa!» Scuoteva la testa. Guardava vagamente per terra. Il pavimento umido consumato da molte generazioni di clienti. «Lo volete sapere?» continuò a voce più bassa. «Ebbene, delle volte sento che la colpa vera ce l'ho io nella nostra disgrazia. Già, la colpa è mia se la nostra povera figliola è lassù consumata dalla febbre. Avrei dovuto maritarli subito, senza cedere al mio stupido orgoglio, alla mia cocciutaggine di non lasciar loro la casa in cattive acque! Ora lei avrebbe quello che ama. E chissà che la loro giovinezza non avrebbe fatto il miracolo che io non ho saputo fare. Ma io sono un vecchio pazzo. Non ho capito nulla. Non credevo che ci si potesse ammalare per queste cose qui. Che giovanotto era quello! Una bravura, un'onestà, un'ingenuità, un'ordine in tutto. Insomma, era mio scolare in tutto e per tutto!» Rialzava la testa, seguitando a difendere le sue idee nel commesso che lo tradiva. Ma Denise non poté starlo a sentire e, commossa a vederlo così umile con gli occhi pieni di lacrime, lui che un tempo regnava da padrone brontolone assoluto, non si seppe trattenere. «Non lo scusate, zio, per carità! Non ha mai voluto bene a Genevieve. Sarebbe scappato prima se avesse voluto dargli alla prima!» «Le ne ho parlato anch'io. Lo sapeva benissimo che Genevieve stava male per colpa sua. Eppure se n'è andato lo stesso. Domandatelo alla zia!» Senza aprir bocca, l'abadù disse di sì con un cenno. Allora il vecchio si fece più livido e si sentiva strozzare dal pianto che gli saliva alla gola. Balbettò solo «Doveva averlo nel sangue! Suo padre, il veterinario, è morto l'anno scorso per aver corso troppo la cavallina!» E senza pensarci fece con gli occhi il giro del negozio, passando dai banchi vuoti agli scaffali pieni. Poi si rimise a guardare la moglie, che stava sempre dritta alla cassa ad aspettare i clienti che non si facevano più vedere. «Ebbela è finita!» Ripresa dire. «Ci hanno ammazzato il commercio! È una delle loro sgualdrine!» «Ci ammazza ora la figlia!» Nessuno ebbe il cuore di dir più nulla. Le carrozze che passavano parevano un rullo di tamburi nell'aria immobile, un rullo funebre, soffocato dalla volta bassa. E, in mezzo a quella tristezza delle vecchie botteghe che vanno morendo, si sentirono dei colpi sordi da qualche parte della casa. Era Genevieve, che si era svegliata, e picchiava con un bastone che le avevano lasciato per chiamare. «Svelti! Svelti!» disse Baduri, scotendosi subito. «Cerca di ridere! Bisogna che non si accorga di nulla!» Anche lui, per la scala, si fregava forte, forte gli occhi per cancellare la traccia delle lacrime. Non appena ebbe aperto la porta, al primo piano, si sentì una voce debole che gridava e scongiurava «Non voglio restare sola! Non mi lasciate sola! Ho paura quando sono sola!» Poi, vista Denise, Genevieve si calmò e sorrise di contentezza. «Eccovi! Come vi aspettavo da ieri sera! Credevo che mi abbandonaste anche voi!» Faceva compassione. La camera della ragazza, una camera stretta e rischiarata da una luce livida, dava sulla corte. Da principio il papà e la mamma avevano messo la malata nella loro camera, ma la vista del paradiso di faccia la commuoveva, tanto che l'avevano dovuta riportare là. Stesa nel letto, non si vedeva più nemmeno la forma e l'esistenza di un corpo, tanto era sottile sotto le coperte. Le sue braccia, scarne, consumate dalla febbre ardente della tisi, si muovevano di continuo come se cercassero qualcosa, con un moto ansioso e incosciente. I suoi capelli neri, che parevano ancora più folti, succhiavano quel povero viso dove agonizzava l'ultima generazione di una famiglia cresciuta di padre in figlio nel buio di quella cantina del vecchio commercio parigino. Denise, intanto, col cuore che le si spezzava dalla compassione, la stava a guardare, senza aprir bocca per paura di non poter più trattenere le lacrime, finalmente mormorò. «Sono venuta subito. Se fossi buona a qualcosa, mi volevi. Volete che resti?» Genevieve, col pianto corto, le mani sempre convulse tra le pieghe della coperta, non le levava gli occhi di dosso. «No, grazie, non ho bisogno di nulla. Vi volevo soltanto dare...» un bacio. Anche lei aveva le lacrime agli occhi. Allora Denise a un tratto si chinò e la baciò sul viso, rabbrividendo a sentir sulle labbra la fiamma di quelle guance smonte. Ma la malata la stringeva in un abbraccio disperato, poi guardò il padre. «Volete che resti?» ripete Denise. «Se avete qualcosa da farmi fare?» «No, no». Gli occhi di Genevieve si volgevano ostinatamente verso il papà che restava lì, dritto, senza saper che dire, strozzato dal pianto. Finalmente capì e zitto se ne andò. Si sentirono i suoi passi scendere pesanti la scala. «Ditemi, sta con lei?» domandò la malata subito, afferrando la mano della cugina che fece sedere sulla sponda del letto. «Vi ho voluta vedere per questo. Voi sola mi potete dire? Non è vero?» Stanisier. Denise, sorpresa da quelle domande, cominciò a balbettare qualcosa e dovette finire con raccontare le chiacchiere che correvano per il magazzino. Claire, stufa di quel giovanotto che le stava sempre accanto. Aveva rotto con lui e Colombat, disperato, le andava dietro dappertutto, cercando di ottenere da lei un appuntamento ogni tanto. Dicevano che sarebbe entrato a Louvre. «Se gli volete bene così, chissà che non torni da voi!» Continuò Denise per dare all'amorente quell'ultima speranza. «Fate presto a guarire e lui vi chiederà perdono e vi sposerà!» Genevieve l'interruppe. Era stata a sentire con tutta l'anima sua, piena di una muta passione che pareva renderle le forze. Ma ricadde subito. «No, no, sento che ormai è finita. Non dico nulla perché sento papà che piange e non voglio che la mamma stia peggio. Ma me ne vado. Lo sento. E se stanotte vi chiamavo era per paura di morire prima che facesse giorno. Dio mio! Quando penso che tanto non è felice lui!» E volendola Denise persuadere che non era poi ridotta al punto che le diceva. La interruppe da capo, buttando giù a un tratto le coperte col gesto impudico di una vergine che sta per morire e non ha più nulla da nascondere. scopertasi fino al ventre mormorò. «Guardatemi! Guardatemi! Chi lo crederebbe?» Denise si alzò tremando dalla sponda del letto come se avesse avuto paura che un soffio bastasse a distruggere quella misera nudità. Era la fine di un corpo di sposa, consumato a forza ad aspettare e ridotto alla gracilità dei primi anni. Lentamente Genevieve si ricoprì e ripeteva «Lo vedete che non sono più una donna? Farei male a volerlo ancora». Si guardarono per un po' tutte e due, senza dirsi nulla, non trovando più una parola. Poi Genevieve riprese «Via! Via! Andatevene! Avete da fare! Grazie! Volevo sapere tutto! Ora sono contenta! Se lo rivedrete, ditegli che lo perdono. Addio, mia buona Denise. Datemi un bacio. È l'ultimo che mi date». Denise la baciò, dicendo che gliene avrebbe dati altri mille. «Ma perché? Con un po' di riguardo!». Ma la malata si mise a scuotere la testa e sorridendo diceva che ormai lo sentiva troppo bene e vedendo la cugina che si avviava per andarsene «Aspettate, battete con quel bastone per far venire papà. Ho troppa paura quando sono sola». Poi, venuto Badu in quella cameretta buia dove passava delle ore a sedere su una seggiola, si finse tutta allegra e disse forte a Denise «Non venite domani, è inutile! Ma domenica v'aspetto, starete tutto il giorno con me!». La mattina dopo, alle sei, verso l'alba. Genevieve spirava dopo quattro ore di rantolo orribile. Il funerale fu di sabato, con un tempo pessimo, un cielo nero che pesava sulla città. Il vecchio boefe era apparato di bianco. I ceri, ardenti nel giorno tetro, parevano stelle avvolte dal crepuscolo. Ghirlande di sempre vivi e un grosso mazzo di rose bianche coprivano la bara. Una bara stretta da ragazzina, posata nell'andito buio della casa, all'altezza del marciapiede, cosicché le carrozze avevano già schizzato di fango il tappeto. Tutto il vecchio quartiere stillava umidità, esalando il suo odore di muffa con quella continua calca sull'astrico melmoso. Denise era lì fin dalle nove per restare con la zia. Ma, mentre la processione funebre stava per muoversi, la badù, che aveva smesso di piangere, con gli occhi arsi dalle lacrime, la pregò di andare anche lei a vegliare sullo zio, che, col suo muto accasciamento e istupidito dal dolore, le dava da pensare. La strada era piena di gente. I piccoli commercianti del quartiere volevano mostrare i badù la loro simpatia, e c'era in ciò quasi una dimostrazione contro il paradiso delle signore, cui davano la colpa della lenta agonia di Genevieve. Tutte le vittime del mostro erano lì. Bedoré con la sorella, Cappellai in Rougaillon, i fratelli Vampouille, Pellicciai, Desligné, Quincaglière, Poté Rivoire, negozianti di mobili, perfino la Tatin, quella della biancheria, e Kiné, Guantaio, che da un pezzo erano stati costretti a fallire, avevano sentito il dovere di venire l'una da Badignol e l'altro dalla Bastiglia, dove si erano messi a lavorare in negozi d'altri. Aspettando il carro, che tardava ancora, tutta quella gente vestita di nero, quei piedi nel fango, dava occhiate d'odio al paradiso, che con le sue vetrine lucide e allegre sembrava a loro un insulto in faccia al vecchio Elbeuf, di cui i parati funebri e i ceri rattristavano l'altra parte della strada. Qualche commesso curioso si affacciava dietro i cristalli, ma il colosso non si muoveva dalla sua indifferenza di macchina lanciata a tutto vapore, che non si dà pensiero dei morti che può fare lungo la strada. Denise cercava con gli occhi suo fratello Jean. Lo vide alla fine davanti alla bottega di Bourat, dove lo raggiunse per raccomandargli di camminare accanto allo zio e sorreggerlo, caso mai avesse camminato a stento. Da un po' di tempo Jean era serio serio, come tormentato da qualche pensiero. Quel giorno, stretto in un soprabito nero, divenuto ormai un uomo che si guadagnava i suoi venti franchi al giorno, pareva così triste che la sorella ne fu colpita, perché non si era accorta che volesse tanto bene alla cugina. Per risparmiare a Pepe inutili tristezze, l'aveva lasciato dalla Grà, con l'idea di andarlo a prendere in giornata per fargli abbracciare gli zii. Il carro ancora non si vedeva, e Denise, enormemente commossa, guardava ardere i ceri, quando trasalì al noto suono di una voce che parlava dietro le sue spalle. Era Burra. Aveva chiamato, con un gesto, un venditore di caldarroste che stava di fronte alla porta di un binaio, e gli disse «Vegorú, fatemi il piacere. Ecco qui, tiro la maniglia. Se mai viene qualcuno, ditegli di ripassare. Ma già non vi scomoderete, non verrà nessuno». Poi rimase lì, sul marciapiede ad aspettare come gli altri. Denise, imbarazzata, aveva dato un'occhiata alla sua bottega. Non ci badava affatto ora. In vetrina non c'era che una montagna di ombrelli consumati dall'aria e con i manici affumicati dal gas. Gli abbellimenti che avevano fatti, la tinta verdolina, gli specchi, l'insegna dorata, tutto era già sudicio e vecchio, con la decrepitezza rapida e triste del falso lusso impiastricciato su delle rovine. Con tutto ciò, se le screpolature ricomparivano, se le macchie d'umido avevano vinto le dorature applicate sopra, la casa stava dritta ancora, aggrappata ostinatamente ai fianchi del paradiso delle signore, come una pustola vergognosa che, putrida e già rotta, non volesse ancora andarsene. «Birpanti!» bruntò l'oburrà. «Non vogliono neppure che la portino via!» Il carro, che alla fine giungeva, si era scontrato con un carrozzino del paradiso, che rapidamente passava al trotto di due bei cavalli raggiando nella nebbia con le sue vernici, e il vecchio lanciava a Denise un'occhiata di traverso, accesa sotto le sue ciglia irte. La processione si mosse ad agio ad agio, sguazzando nelle pozze, nel silenzio delle carrozze e degli omnibus fermati all'improvviso. Quando il carro parato di bianco attraversò Place Gaillon, gli sguardi pieni d'odio si ficcarono un'altra volta dietro i vetri del grande magazzino, da dove soltanto due ragazze guardavano, tutte contente di quella distrazione. Badou teneva dietro al carro con un passo pesante e quasi macchinalmente, con un gesto aveva rifiutato di appoggiarsi a Jean che li camminava accanto. Poi, dopo la gente, venivano tre carrozze da lutto. Nel traversare Runeau de Petit Shams, Robinot accorse a unirsi al corteo, pallido, invecchiato. A Saint-Roch c'erano molte donne da aspettare, le piccole commercianti del quartiere che avevano avuto paura della folla. La dimostrazione diventava quasi una sommossa, e quando dopo l'ufficio funebre il carro ricominciò ad andare, tutti gli uomini lo accompagnarono per quanto fosse un bel pezzo di strada da Roussan Honoré, al camposanto di Montmartre. Bisognò tornare per Roussan Rock e ripassare di nuovo davanti al paradiso delle signore. Quel povero cadavere di giovanetta era così portato su e giù intorno al gran magazzino come la prima vittima caduta sotto le fucilate in tempo di rivoluzione. Sulla porta, delle flanelle rosse sventolavano al vento come bandiere, e un'esposizione di tappeti variopinti, splendeva in una sanguigna fioritura di rose enormi e di peogne spampanate. Denise, intanto, era salita su una carrozza con l'anima presa da tale tristezza e commossa da dubbi così pungenti che non aveva più avuto la forza di andare avanti. Si dovettero fermare in rue du disdesambre, davanti ai palchi della nuova facciata che impedivano ancora un po' il movimento della strada. E Denise vide Burra, rimasto indietro, che strascicava la gamba tra le ruote della carrozza dove era sola. Non sarebbe mai potuto arrivare al camposanto in quel modo. Aveva alzato la testa e la guardava. Poi a un tratto salì. «Son questi maledetti ginocchi!» mormorò. «Perché vi scostate? Non voglio mica!» Lei si accorse che era quello di prima, affezionato e rabbioso. Brontolava e diceva che quel terremoto di Badou doveva avere la pelle dura se durava ancora con quel po' di mazzate sul capo. Il corteo si era rincamminato e, affacciandosi, Denise poteva vedere lo zio ostinato ad andare dietro al carro col suo passo pesante che pareva guidasse il moto cupo e doloroso della processione. Allora lei si abbandonò in un cantuccio e ascoltò i lunghi discorsi dall'ombrellaio, cullata malinconicamente dalla carrozza. «Guardate un po' se la polizia non dovrebbe far liberare la pubblica strada! È più di un anno e mezzo che son lì con la loro facciata. Anche ieri l'altro ce n'è morto uno. A che gliene importa? Ora, quando vorranno allargare da capo, metteranno di ponti sopra le strade. Dicono che siate duemila settecento impiegati e che quest'anno gli affari saranno per un centinaio di milioni. Cento milioni! Cento milioni!» Denise non sapeva che rispondere. Il corteo era entrato in rue de la Sedanten e andava ad agio ad agio per le carrozze. Burra seguitò con gli occhi smarriti, come se sognasse a voce alta. Del trionfo del paradiso non si faceva ancora una ragione, ma confessava che il vecchio commercio era bello e rovinato. «Il povero Rubinò è fritto! Pare uno che stia per annegare! E i pedoree e i vampuglie non stanno mica meglio! Sono come me! Hanno le gambe malate!» Desligné un giorno o l'altro crepa ad un accidente. Poter e War hanno l'iterizia. «Siamo proprio carini! Bel corteo di carcasse che si fa a quella povera piccina! Deve essere bella da vedersi questa processione di falliti! E pare che gli altri ci debbano rimettere! Quei briganti hanno messo su i fiori, le mode, i profumi, le scarpe che so io!» Brogné, profumiere in Rue de Gramont. «Si può preparare a sgombrare! E non darei dieci franchi per il calzolaio nord in Rue d'Antan!» Questa maledizione arriva fino a Rue d'Antan, dove la Cassagne, coi suoi fiori e le sue penne e la Chedouille, che pure fa dei cappelli che sono rinomati, tra due anni saranno belli sepolti. E poi altri, e poi altri! Tutti devono cascare! Quando i calciai si mettono a vendere sapone e scarpe, possono anche voler vendere patate fritte! Il mondo ormai va alla rovescia! Il carro attraversava allora Place de la Trinité, e Denise, che con l'anima straziata, ascoltava il lamento continuo del vecchio, cullata dal funebre incedere del corteo, poté vedere, sboccando da Rue de la Chassée d'Antan, il corteo che già cominciava a salire per Rue Blanche. Dietro lo zio che camminava col passo muto e cieco d'un bue accoppato, le pareva di sentire lo scalpiccio d'una mandria condotta al macello, la sconfitta delle botteghe d'un intero quartiere, il commercio minuto che strascinava la sua rovina acciabattando quel nero fango di Parigi. Bourat parlava con voce più cupa, come rallentata dalla ripida salita della Rue Blanche. Io, per me, ne ho abbastanza, ma l'ho preso e non lo lascio andare. Ho perduto anche in appello. Dio sa quel che mi è costato quasi due anni di processo e i procuratori e gli avvocati non fanno nulla. Sotto la mia bottega non ci passa. I giudici hanno detto che quella non era una riparazione. Quando si pensa che si voleva fare lì sotto una sala tutta a lumi per vedere che effetto facevano le stoffe alla luce del gas, un sotterraneo che avrebbe riunito i cappelli con le stoffe. E ora si tormenta, ma non la può mandare giù che un vecchio come me può non nulla. Gli si metta tra i piedi quando tutti sono lì in ginocchio davanti ai suoi quattrini. No, mai, mai e poi mai. Può essere che io sia ridotto sull'astrico. Fin da quando mi si sono messi intorno gli usceri, so che quella canaglia compra le mie cambiali per rovinarmi. Non vuol dire nulla. Lui dice di sì. Io dico di no e dirò sempre di no, anche quando sarò fra quattro assi come quella povera figlia che va ora sottoterra. Quando arrivarono al boulevard des Clichy, la carrozza andò più lesta. Si sentiva l'ansare della gente, la fretta incosciente del corteo che aveva premura di farla finita. Quel che Burra non diceva, chiaramente era la miseria spaventosa in cui era caduto, stando per annegare e persistendo ancora sotto la grandine dei protesti. Denise, che sapeva tutto, ruppe alla fine il silenzio e disse con voce di preghiera. Monsieur Burra, non fate più il cattivo. Lasciate fare a me e accomoderò io i vostri affari. L'interruppe con gesto furioso. Zitta voi! Non sono cose che vi riguardino. Siete una buona ragazza e so che me lo fate abbattire quel tale che credeva di comprarvi come avrebbe comprato la mia casa. Ma che direste voi? se vi consigliassi di dire di sì, mi direste fa via! E così io, quando dico di no, non ci ficcate il naso. Ed essendosi la carrozza fermata alla porta del Camposanto, scese con la ragazza. La tomba di Badù era nel primo viale, a sinistra. In pochi minuti fu fatto tutto. Jeanne aveva tirato da parte lo zio che guardava la fossa col viso instupidito. Il corteo si era sparso tra le tombe accanto. Tutti i visi di quei commercianti poveri di sangue in fondo ai loro pianterreni malsani parevano visi di malati sotto il cielo color fango. Quando la cassa andò giù, lenta lenta, delle guance piene di pustole rosse impallidirono. Dei nasi scarni si chinarono. Delle palpebre, gialle di bile, rovinate dai numeri, si voltarono da un'altra parte. Ci dovremmo ficcare tutti in quella fossa, disse Burà a Denise, che gli era rimasta accanto. Tutto il quartiere va giù con la poverina. So io quel che voglio dire. Il commercio all'antica può andar giù con quelle rose e bianche che scendono con lei. Denise ricondusse lo zio ed il fratello in una carrozza da lutto. La giornata passò tristissima. Cominciò a metterle in pensiero il pallore di Jeanne e, quando ebbe capito che si trattava al solito di una donna, lo volle calmare con l'offrirgli dei quattrini, ma lui scuoteva il capo e rifiutava. Faceva sul serio questa volta. Amava la nipote di un sticcere ricchissimo, che non accettava nemmeno i mazzolini di viole. Poi, più tardi, quando Denise andò a pigliare Pepe dalla grà. Questa le disse che era troppo grande ormai e non lo poteva più tenere. Ecco un'altra seccatura. Bisognava trovargli un collegio e forse allontanarselo. E per ultimo, nel portare Pepe da Badou, si sentì spezzare il cuore vedendo la disperazione muta di quei due. La bottega era chiusa. Lo zio e la zia erano in fondo al salottino e si erano scordati da accendere il gas per quanto in quella giornata d'inverno ci fosse un buio perfetto. Erano rimasti soli, l'uno in faccia all'altro, nella casa a poco a poco fatta vuota dalla rovina e, la morte della figlia, faceva più tetere le tenebre ed era come l'ultimo scricchiolio della vecchia casa imputridita dall'umido. Sotto quello sfasciume lo zio camminava, senza potersi fermare, intorno alla tavola col suo passo di prima, muto e cieco. La zia non diceva nemmeno lei una parola, caduta su una seggiola col viso bianco di un ferito che perde il suo sangue goccia a goccia. Quando Pepe baciò e ribaciò le loro guance gelide, non piansero nemmeno allora. Denise si sentiva a soffocare dalle lacrime. Quella sera, per l'appunto, Muret volle vederla per discorrere con lei di un vestitino da bambino che voleva lanciare nella moda. Un misto di scozzese e di zuavo. E lei, fremente di compassione, sconvolta da tanti dolori, non seppe trattenersi e cominciò a dire di Burra, di quel povero disgraziato di cui volevano ad ogni costo la morte. Ma non appena sentì il nome dell'ombrellaio, Muret uscì dai gangheri. Quel vecchio pazzo, come lo chiamava lui, era la sua disperazione. Gli guastava il suo trionfo con quella stupida ostinazione di non cedere la casa, quella schifosa stamberga che sporcava il paradiso. Il solo angoletto dell'intero quadrato che fosse sfuggito alla sua conquista era un incubo. Chiunque altro gli avesse parlato per Burra avrebbe rischiato di essere messo fuori, tanto Muret era tormentato dal bisogno di buttar giù quella casaccia a calci. Ma che doveva fare lui? Poteva lasciare un tal mucchio di rovine accanto al paradiso. Bisognava che fosse spazzato via. Il magazzino doveva passare oltre. Peggio per quel vecchio pazzo. E si metteva a passare in rassegna tutte le offerte che gli aveva fatto, perfino centomila franchi. Chi aveva ragione? Non stava a rubare, dava il danaro che gli chiedevano, ma almeno voleva che non fossero così bestie da ostacolare la sua opera. Chi provava a fermare i treni sulle strade ferrate? Denise l'ascoltava con gli occhi bassi, non riuscendo a trovare che ragioni di sentimento. Era tanto vecchio quel povero uomo che male c'era ad aspettare la sua morte. Un fallimento lo avrebbe ucciso. Allora egli aggiunse che non era più padrone di impedire la cosa, se ne occupava Bourdoncle e il consiglio aveva belle deciso di farla finita. Per quanto ne fosse addolorata e piena di compassione, lei non poteva rispondere nulla. Dopo un silenzio penoso, Muret cominciò a lui a parlare di Badou. Cominciò col compiangerli molto per la morte della figlia. Erano ottima gente, onestissimi, ma avevano avute tutte le disgrazie. Poi riprese i suoi argomenti. In fondo la colpa l'avevano loro. Come si fa a ostinarsi in quella maniera nella baracca marcia dell'antico commercio? Non c'era da meravigliarsi se crollava l'oro sul capo. L'aveva predetto venti volte, anzi, se ne doveva rammentare anche lei, che le aveva dato l'incarico di avvertire lo zio, d'una inevitabile rovina se seguitava con le sue idee ridicole dei vecchi. E la rovina era avvenuta. Nessuno ormai la poteva scongiurare. Nessuno poteva ragionevolmente pretendere che lui si rovinasse per gli altri. Del resto, anche se avesse fatto la pazzia di chiudere il paradiso, un altro grande magazzino sarebbe cresciuto subito lì accanto, perché l'idea era di tutti, e il trionfo delle città operaie ed industriali era sparso in germe dal vento del secolo che portava via l'edificio sconquassato dell'età passate. A poco a poco, Mureci si riscaldava e trovava parole di eloquente emozione per difendersi contro l'odio delle sue vittime involontarie, contro il clamore delle bottegucce moribonde che lui si sentiva salire attorno. I morti non si tengono in casa, bisogna sotterrarli, e con un gesto egli spazzava via e gettava sottoterra nella fossa comune il cadavere del negozio antico che, coi suoi resti imputriditi e fetidi, diveniva la vergogna delle strade piene di sole della nuova Parigi. No, no, non sentiva nessun rimorso. Non faceva che quel che volevano i tempi, e meglio di lui, lo sapeva lei, che amava la vita, che aveva la smagna dei grandi affari conclusi sotto la luce della pubblicità. Non sapendo che rispondere, Denise lo stette un bel po' a sentire, e se ne andò con l'anima tutta sottosopra. Quella notte, non chiuse occhio, un'insonnia piena di paurose visioni la faceva voltare e rivoltare sotto le coperte. Le pareva ad essere piccina piccina e piangeva di rotto, in fondo al suo giardino di Valogne, vedendo gli uccelli mangiare i ragni e i ragni mangiare le mosche. Ma dunque era vera quella necessità della morte che ingrassa il mondo, quella battaglia per l'esistenza che faceva nascere gli esseri sul massacro dell'eterna distruzione. Si rivedeva poi davanti alla fossa dove avevano calato Genevieve. Rivedeva lo zio e la zia, soli in fondo al salotto buio. Nel silenzio profondo un rumore sordo di rovina attraversava l'aria morta. Era la casa di Burà, che sprofondava, come minata dalla piena. Poi una nuova rovina, e poi un'altra, e poi un'altra, Robinot, poi Bedoré, i vampuglie. A mano a mano scricchiolavano e si sfasciavano. Il commercio minuto del quartiere San Roxy distruggeva sotto un piccone invisibile, con gli improvvisi rumori di una carretta che si scarica. Allora un'immensa pietà la riscuoteva. Dio mio, quanti dolori, quante famiglie che piangono, quanti vecchi gettati sull'astrico, quanti spaventosi drammi di rovina e miseria. E lei non poteva salvare nessuno e sentiva dentro di sé che tutto ciò accadeva per il bene, che ci voleva quel mucchio di miserie per la salute di Parigi. Sul far del giorno si calmò, e una grande tristezza rassegnata la teneva con gli occhi aperti voltati verso la finestra, di cui i vetri cominciavano a rischiararsi. Sì, ogni rivoluzione voleva i suoi martiri, e non si va avanti senza morti. La sua paura ad essere un'anima malvagia, di aver lavorato per assassinare i fratelli, si perdeva ora in un'angosciosa pietà al cospetto di quei mali senza rimedio che sono il frutto doloroso d'ogni generazione. Si mise allora a cercare tutti i conforti possibili. La sua bontà riflette a lungo sul modo di salvare almeno i suoi dalla catastrofe finale. Moree intanto le si parava davanti, con la sua testa piena di passione, con gli occhi pieni di amore. Non le avrebbe di sicuro rifiutato nulla, era certa che avrebbe fatto per lei quanto avesse potuto, e il suo pensiero si smarriva, cercando di giudicarlo. Conosceva la vita di lui. Non ignorava come prima avesse tratto vantaggio dall'amore. Sfruttando di continuo le donne, conosceva che si era fatto delle amanti per riuscire più presto, e si era messo con la desforge soltanto per avere dalla sua il barone Hartman. Sapeva tutte le altre sue avventure, le claire trovate e lasciate, il piacere comprato, pagato, gettato da una parte. Ma quelle prove di un avventuriero amoroso, di cui il magazzino chiacchierava scherzando, si perdevano tutte nell'ingegno e nella grazia vittoriosa di lui. Lui era la seduzione in persona. Denise non gli avrebbe mai perdonato la sua menzogna di prima, la sua freddezza d'amante sotto la commedia galante delle sue cortesie, ma si sentiva disarmata ora che pativa per lei. Questo dolore lo faceva migliore. Quando lei lo vedeva attormentato dalla sua impotenza, lo vedeva espiare duramente il suo disprezzo per la donna. Le sembrava abbastanza punito. Fin da quel giorno, Denise ottenne da Muray quanto volle che le accordasse nel caso che Badu e Bourat cedessero. Passò qualche settimana. Lei andava a vederlo zio quasi tutti i giorni, disfuggita, portandogli il suo dolce sorriso, il suo coraggio, per allegrare il tetro negozio. La zia soprattutto le dava pensiero, perché dalla morte di Genevieve in poi era rimasta a sorte in uno stupore che faceva male a vederla. Pareva che la vita l'abbandonasse d'ora in ora e, quando le domandavano che aveva, rispondeva meravigliata che non soffriva, che era soltanto come presa dal sonno. Nel quartiere tutti crollavano il capo e dicevano che la povera signora non avrebbe pianto a lungo la figlia. Un giorno Denise usciva da casa Badu, quando sul punto di entrare in Place Gaillon sentì un grande urlo. La folla correva, presa da quel terrore e da quella pietà che scompiglia d'improvviso una strada. Un omnibus, di quelli che vanno dalla Bastiglia a Batignol, era passato sopra un uomo sullo sbocco di rue Neuf-Saint-Agostin davanti alla fontana. Il cocchiere, dritto a cassetta, tratteneva con moto concitato i cavalli che si impennavano e bestemmiava «Dio santo! Dio santo, come si fa a non stare attento?» L'omnibus si era fermato. La folla circondava il ferito. Una guardia era lì per caso, il cocchiere sempre dritto invocando la testimonianza di quelli che erano sull'imperiale e che, se erano anch'essi alzati per spenzolarsi e vedere il sangue, seguitava a giustificarsi con gesti furibondi e con la gola stretta da una collera sempre crescente. «Non ci si fa un'idea! Chi me l'ha messo tra i piedi? Pareva in casa sua! Ho urlato! Ed eccolo che mi va sotto le ruote!» Allora un operaio, un imbianchino che era accorso col suo pennello di una fabbrica vicina, disse con voce stridula in mezzo a quei discorsi «Non ti arrabbiare così! L'ho visto io! Si è buttato apposta! Ha fatto così, con la testa in avanti!» Eccone un altro che ne aveva abbastanza, a quel che sembrava. Altre voci si alzarono. Tutti furono d'accordo sull'idea di un suicidio, mentre la guardia faceva il verbale. Dele signore pallide pallidi scendevano svelte dall'omnibus portando con sé, senza aver cuore di voltarsi, l'orrore della scossa molle che avevano sentita nel passar sopra il corpo. Denise intanto si avvicinò per quella sua compassione attiva che la faceva entrare in tutti i casi. Cani schiacciati, cavalli cascati, operai venuti giù dai tetti. E sul lastrico riconobbe il disgraziato, svenuto, col soprabito tutto fango. «Emessi Rubinò!» esclamò nel suo doloroso stupore. La guardia si mise subito ad interrogarla e lei disse nome, cognome, professione, indirizzo. Per la bravura del cocchiere l'omnibus aveva un po' deviato e soltanto le gambe di Rubinò si erano trovate sotto le ruote. C'era, peraltro, il pericolo che fossero rotte tutte e due. Quattro uomini di buona volontà trasportarono il ferito da un farmacista di Rougaillon, mentre l'omnibus si rimetteva in cammino ad agio ad agio. «Dio santo!» disse il cocchiere dando una frustata ai cavalli. «La mia giornata l'ho avuta!» Denise era andata dietro Rubinò dal farmacista, il quale, mentre aspettavano un medico, dichiarò che non c'era lì per lì nessun pericolo. e che la cosa migliore era di portare il ferito a casa sua dal momento che stava vicino. Un uomo era andato al posto di polizia a chiedere una barella. Allora la giovane ebbe il buon pensiero di correre avanti per preparare la Rubinò a quel terribile colpo. Ma le ci volle del bello e del buono per attraversare la folla, che, aumentando ogni minuto, si accalcava avvidamente sulla soglia. Donne e ragazzi si alzavano sulla punta dei piedi e resistevano ai brutali spintoni. Ogni ultimo venuto inventava la sua storiella. Dicevano che si trattava ad un marito che l'amante della moglie aveva buttato dalla finestra. In Rue Neuve de Petit Champs, Denise vide da lontano la Rubinò, sulla porta del negozio. Ebbe così un pretesto per fermarsi e si mise a discorrere cercando il modo di rendere meno terribile la notizia. Il negozio mostrava il disordine e l'abbandono delle ultime battaglie di un commercio che stava morendo. Era la fine prevista della grande gara fra le due sete rivali. La Parigi Paradiso aveva ucciso la concorrenza con un nuovo ribasso di 5 centesimi. La davano ora a 4,95 e la seta di Gaugian aveva avuto la sua Waterloo. Da due mesi Rubinò, ridotto a comprare giorno per giorno, faceva una vita d'inferno per impedire il fallimento. «Ho visto passare vostro marito in Passegagnon», mormorò Denise che era a poco a poco entrata nel negozio. La Rubinò, che dava ogni tanto un'occhiata inquieta verso la strada, disse vivamente «Ah, proprio ora! L'aspetto! Dovrebbe essere già qui! Stamattina è venuto Monsieur Gaugian e sono usciti insieme». Era sempre graziosa, delicata e allegra, ma una gravidanza assai inoltrata la spossava e restava più sbalordita, più imbrogliata che mai in quegli affari che non erano fatti per la sua indole affettuosa e che andavano male. Lo domandava spesso lei «Perché tutto quello arruffio? Non era meglio vivere tranquillamente in fondo a una casina e mangiare pane solo?» «Non c'è bisogno di nascondervelo a voi come vanno le cose, mia buona Denise. Vanno male. E il mio pover marito non dorme più. Anche oggi quel Gaugian l'ha tormentato per via delle cambiali scadute. Mi sentivo morire d'inquietudine a stare lì sola sola». E stava per tornare sulla soglia quando Denise la fermò. Aveva sentito lontano un rumore di folla e capì che era la barella col corteo dei curiosi. Allora, con la gola secca, non trovando le parole di conforto che avrebbe voluto, dovette parlare. «Non vi spaventate. Non c'è pericolo. Sì, ho visto Messia Robinot. Gli è accaduta una disgrazia. Lo portano qui. Non vi spaventate bene, supplico». La signora l'ascoltava, bianca come un cencio lavato, senza capire bene ancora. La strada si era riempita di gente. I cocchieri fermati bestemmiavano. Degli uomini avevano posato la lettiga davanti alla porta del magazzino per aprire i due battenti a cristalli. «È una disgrazia», continuava Denise, che voleva nasconderle il tentativo di suicidio. Era sul marciapiede e scivolato sotto le ruote di un omnibus. «Ho soltanto i piedi. Si cerca un medico. Non vi spaventate». Un gran tremito scoteva Madame Robinot. Mandò due o tre gridi inarticolati. Poi non parlò più. E si buttò accanto alla lettiga, di cui aprì le tende con le sue mani tremanti. Gli uomini che avevano portato la lettiga aspettavano davanti alla casa per riportarla via, quando fosse venuto il medico. Non osavano più toccare Robinot, che era tornato in sé e che soffriva atrocemente al più piccolo movimento. Quando vide la moglie, due grosse lacrime gli scesero per le guance. Lei l'aveva abbracciato stretto e piangeva guardandolo fisso. Nella via la folla continuava. I visi si accalcavano come a teatro, con occhi luccicanti. Delle operaie, scappate da un laboratorio, pareva volessero rompere le vetrine per vedere meglio. Per sfuggire a quella febbre di curiosità, e sembrandole anche che non convenisse lasciare aperto il negozio, Denise pensò di tirare giù la saracinesca di ferro. Girò da sé la manovella. Il meccanismo stridette quasi come un lamento. Le lamine scendevano lente come un pesante sipario che cada sulla catastrofe d'un quinto atto. E, quando tornò dentro ed ebbe richiusa dietro di sé la porticina, vide la robino stringere ancora il marito tra le sue braccia, perdutamente, nella mezza luce che cadeva dalle due fessure della saracinesca. La bottega sembrava che scivolasse verso il niente. Soltanto quelle due stelle luccicavano sulla disgrazia brutale e improvvisa, quali accadono sull'astrico di Parigi. Finalmente, la robino poteva spiccicare qualche parola. «Oh, amor mio! Amor mio! Amor mio!» Ma non sapeva dire altro. E il disgraziato, quando la vide così, in ginocchio, riversa col suo ventre di madre che si schiacciava sulla lettiga, si sentì soffocare e, preso dai rimorsi, disse tutto. Quando non si muoveva, sentiva soltanto il piombo ardente delle sue gambe. «Perdonami, dovevo essere pazzo. Quando il procuratore mi ha detto davanti a Gojan che domani saranno messi i sigilli, ho visto come le fiamme che mi ballavano davanti. Mi pareva che i muri bruciassero. E poi non mi ricordo più nulla. Venivo giù per rue della Michaudière e mi pareva che tutti quelli del paradiso mi canzonassero. Quell'immensa baracca mi schiacciava. È passato un omnibus. Ho pensato all'homme e al suo braccio e mi ci sono buttato sotto.» La robino era poco a poco caduta a sedere sul pavimento inorridita. «Dio mio! S'era voluto ammazzare!» Ed afferrò la mano di Denise, che si era chinata verso di lei, sconvolta da quella scena. Il ferito, spostato dalla commozione, era di nuovo svenuto. E il medico che ancora non veniva. Due uomini l'avevano già cercato dappertutto. Anche il portinaio era andato a vedere di trovarne uno. «Non vi disperate così!» ripeteva Denise, singhiozzando anche lei. Allora la robinò, a sedere per terra, con la testa all'altezza della lettiga. Il viso appoggiato al materasso dove giaceva suo marito si sfogò. «Oh, se vi raccontassi! Per me! Ha cercato di morire! Me lo diceva sempre! Ho rubato tutto il tuo! Il denaro non era mio!» E la notte non faceva che fantasticare su quei sessantamila franchi. Si svegliava tutto sudato. Diceva che non era buono a nulla, che non sapeva fare, non doveva rischiare i quattrini degli altri. Sapete com'è sempre nervoso e come si tormenta da sé. Finiva col vedere cose che mi facevano paura. Mi vedeva per la strada a mendicare e mi voleva invece tanto bene, mi desiderava invece ricca, felice. Ma nel voltarsi lo trovò con gli occhi aperti e seguitò singhiozzando. «Amor mio, perché hai fatto così? Mi credi tanto cattiva dunque! Che me ne importa se siamo rovinati? Basta stare insieme. Insieme! Non saremo infelici, lascia che ci piglino tutto. Andiamocene dove tu non senta più parlare di loro. Lavorerai e vedrai come si starà bene». Era caduta con la fronte accanto al viso pallido del marito. E tutte e due non aprirono più bocca, nella commozione della loro angoscia. In quel silenzio la bottega pareva dormisse sotto lo scialbo crepuscolo che la inondava e, dietro la saracinesca, si sentiva il frastuono della strada, la vita del giorno chiaro che passava col rumore delle carrozze e la folla dei marciapiedi. Finalmente, Denise, che andava ogni tanto a dare un'occhiata per la porticina che dava sull'atrio della casa, tornò gridando «Il medico!». Il portinaio aveva trovato un giovane, con gli occhi vispi. Vole visitare il ferito prima che lo mettessero a letto. Una gamba sola, la sinistra, era rotta sopra il collo del piede. La rottura era semplice. C'era da sperare che non nascessero complicazioni. E stavano per portare la lettiga in fondo, nella camera, quando comparve Gojan. Veniva a dire d'un ultimo tentativo che era andato a vuoto. Il fallimento era inevitabile. «Che è stato?». Denise, con due parole, glielo spiegò. Rimase male. Robinò gli disse allora debolmente «Non vi servo rancore, ma un po' di colpa ce l'avete anche voi». «Dio santo!» rispose Gojan. «Bisognava essere più forti di noi! Lo sapete che io non sto mica meglio di voi!» Alzavano la lettiga. Il ferito poteva avere ancora la forza di dire «No! No!» Anche a essere più forti era lo stesso. «Capisco che restino i vecchi ostinati come Burra e Badù, ma noi altri che eravamo giovani e che si accettava le idee nuove, no, vedete Gojan, è la fine d'un mondo!» Lo portarono via. La Robinò abbracciò Denise con un impeto dove c'era quasi della contentezza, sentendosi libera da quell'imbroglio degli affari. Gojan, andandosene con la ragazza, le confessò che quel povero diavolo di Robinò aveva ragione. Era una sciocchezza voler combattere contro il paradiso delle signore. Anche lui si sentiva perduto, se non si arrendeva. Il giorno prima si era segretamente adoperato con Uten, che doveva appunto andare a Lione, ma disperava della cosa e cercò di mettere dalla sua Denise, conoscendone certo la potenza. Per me, ripeteva, tanto peggio per le fabbriche. Se mi rovinassi col combattere ancora per amore degli altri, riderebbero di me. Ora è tutta questione di fare a chi produce a meno prezzo. Dio mio, lo dicevo a voi una sera. I fabbricanti non devono far altro che seguire il progresso, con miglior ordinamento e nuovi sistemi. Tutto si accomoderà. Basta che il pubblico sia contento. Denise rispose sorridendo. Andatelo a dire amore stesso. Avrà piacere, e non è uomo da tenervi rancore se gli offrite anche soltanto il privilegio di un centesimo al metro. Labbadou morì di gennaio in una bella giornata tutta sole. Da quindici giorni non poteva più scendere nel negozio di cui stava a guardia una donna. Sedeva in mezzo al letto, sorretta da guanciali. Nel suo viso pallido, gli occhi soltanto vivevano ancora, e con la testa dritta li volgeva ostinatamente verso il paradiso delle signore, di faccia, attraverso le tendine delle finestre. Badou, che ci soffriva a vedere quegli occhi così disperatamente fissi. Voleva qualche volta tirare le tende grandi, ma lei con un gesto lo supplicava di no. Voleva vedere fino all'ultimo respiro. Le avevano rubato tutto, il negozio e la figlia. Anche lei se n'era poco a poco andata col vecchio il bœuf, perdendo la vita a mano a mano che perdeva la clientela. Morivano sfiniti insieme. Quando si accorse di morire, ebbe ancora la forza di volere che il marito aprisse le finestre. Era bel tempo. Un raggio allegro di sole dorava il paradiso, mentre la camera della vecchia casa era avvolta nell'ombra. Lei restava con gli occhi fissi davanti al monumento trionfale, a quei vetri lucidi dietro i quali passavano e ripassavano i milioni. Gli occhi le si velarono invasi lentamente dalle tenebre, e, quando si spensero nella morte, restarono spalancati, continuando a guardare, pieni di grosse lacrime. Un'altra volta tutti i commercianti rovinati del quartiere accompagnarono il carro. Ivan Pui, lividi per le scadenze di dicembre, che avevano pagato con uno sforzo supremo che era impossibile fare di nuovo. Bedoré si appoggiava su un bastone, tormentato da tali pensieri che aggravavano la sua malattia di stomaco. Desliniers aveva avuto un accidente. Piotre e Voir camminavano zitti zitti guardando a terra, come uomini belle spacciati. E nessuno osava chiedere degli assenti, Kinet, Latatè, altri ancora che dalla mattina alla sera venivano sommersi e scomparivano nel fiotto dei disastri, senza contare Rubinot, che era sempre a letto con la gamba rotta. Ma soprattutto erano guardati curiosamente i commercianti di cui pendeva sul capo la rovina, Mourignet, la Chadouille, la Cassagne e Nod, calzolaio, ancora in piedi, ma già sentendo l'ansietà del male che li doveva spazzar via a loro volta. Dietro il carro veniva Badou, con lo stesso passo di bue accoppato col quale aveva accompagnato la figlia e, in fondo alla prima carrozza di lutto, si vedevano luccicare gli occhi di Burin, di sotto la selva dei suoi sopraccigli e dei suoi capelli bianchi, come la neve. Denise soffrì moltissimo. Da quindici giorni era affranta dei pensieri e dalla stanchezza. Aveva dovuto mettere Pepe in collegio e Jeanne la faceva correre, tanto innamorato della nipote del pasticcere che aveva supplicato la sorella di chiederla per lui. Poi la morte della zia, tutte quelle disgrazie avevano accasciato la povera figlia. Mouré le aveva detto da capo quel che avrebbe fatto lei per lo zio e per gli altri. Sarebbe stato ben fatto. Parlarono insieme una mattina quando lui seppe che Burin era stato buttato sull'astrico e che Badou stava per chiudere. Poi, dopo quell'azione, uscì con l'idea di consolare almeno quei due. In rue della Michaudière, Burin se ne stava dritto sul marciapiede davanti alla casa, da cui l'avevano cacciato il giorno prima, con un bel tiro, un'invenzione del procuratore. Mouré aveva delle cambiali sue e aveva ottenuto facilmente il fallimento. Poi, con 500 franchi, aveva riscattato l'affitto nella vendita fatta dal sindaco per il fallimento. E così, il vecchio caparbio si era lasciato prendere con 500 franchi ciò che non aveva voluto dare per centomila. Ma l'ingegnere che era giunto con gli operai aveva dovuto chiamare le guardie per metterlo fuori. Le merci erano state vendute, le camere svuotate. Lui sostinava nel cantuccio dove dormiva e dal quale, per ultima pietà, non avevano il cuore di cacciarlo. Gli operai si misero alla fine a scoperchiargli il tetto. Levate le ardesi imputridite, i soffitti crollavano e i muri si screpolavano, e Burin restava sotto i travicelli scoperti in mezzo alle rovine. Finalmente le guardie l'avevano fatto andare via, ma la mattina dopo era ricomparso sul marciapiede di fronte, dopo aver passato la notte in una camera immobiliata lì vicino. «Messie Burin», disse dolcemente Denise. Non la sentiva nemmeno. I suoi occhi di fiamma divoravano gli operai che davano delle picconate sulla facciata. Per le finestre vuote si vedeva ora l'interno, le stanzucce, la scala nera dove il sole non era entrato mai da 200 anni. «Ah, siete voi», rispose alla fine quando l'ebbe riconosciuta. «Ah, che lavoro! Ladri!» Denise non osava più dire nulla, nel vedere quella rovina non potendo nemmeno lei levare gli occhi dalle pietre ammuffite che cadevano. Lassù, nel soffitto della sua antica stanza, vedeva ancora il nome in lettere nere e tremolanti, Ernestine, scritto con la fiamma, e si rammentava i suoi giorni di miseria piena di pietà per tutti i dolori. Ma gli operai, per far più presto, avevano pensato di rompere il muro nella base e già tentennava. «Si schiacciasse!» mormorò Burà selvaggiamente. Ci fu un rumore terribile. Gli operai spaventati scappavano per la strada. Il muro veniva giù e portava via con sé tutto. La casa non si reggeva più tutta crepe e crollò come se fosse stata di fango sciolto dalla pioggia. Non c'era più che un monte di macerie, il letamaio del passato gettato sulla via. «Dio mio!» aveva esclamato il vecchio come se gli avessero strappate le viscere e restava bocca aperta. Non avrebbe mai creduto che venisse giù tanto alla svelta. Guardava la breccia aperta, il vuoto fatto finalmente nel fianco del paradiso, libero così dalla pustola che lo disonorava. La mosca era stata schiacciata. L'ostinazione accanita dell'infinitamente piccolo era stata vinta. Tutto il quadrato era stato invaso e conquistato. Della gente si era fermata e discorreva ad alta voce con gli operai che si arrabbiavano contro quelle baracche buone soltanto ad ammazzare la gente. «Messie Bourat», ripete Denise, cercando di tirarlo da parte, «non sarete mica abbandonato, si penserà a tutti i vostri bisogni». Ma Bourat rispose fieramente. «Non ho bisogni, io! Vi mandano loro, non è vero? Dite loro dunque che il vecchio Bourat sa lavorare ancora e troverà lavoro quanto ne vorrà. Sarebbe troppo comodo assassinare la gente e poi fargli l'elemosina». Allora lei lo supplicò. «Accettate, ve ne prego. Non mi date questo dispiacere». Ma lui scuoteva i capelli bianchi. «No, no, no, no. Buonasera, siate felice voi che siete giovane e lasciate che i vecchi se ne badano con le loro idee». Dette un'ultima occhiata al mucchio delle rovine e poi se ne andò ad agio ad agio. Denise lo vide sperdersi tra la folla del marciapiede fino all'angolo di Place Gaillon, poi scomparve. Restò un po' immobile con gli occhi smarriti, poi entrò dallo zio. Era solo nel tetro vecchio e il boeuf. La donna di servizio non veniva che la mattina e la sera a cucinargli qualcosa e aiutarlo ad aprire e chiudere la bottega. Passava le ore solo solo, spesso senza che neppure uno venisse a smuoverlo in tutta la giornata, sbalordito e non trovando nemmeno più le stoffe quando una cliente capitava per caso. E lì, nel silenzio e nel lume fioco, non faceva che camminare, camminare col passo pesante del corteo funebre, cedendo a un bisogno da malato, come se avesse voluto cullare e addormentare il suo dolore. «Vi sentite un po' meglio, zio?» domandò Denise. Non si fermò che un secondo per gettarlo un'occhiata, poi si rimise a camminare dalla cassa a un angoletto. «Sì, sì, sto benissimo. Grazie». Lei cercava di distrarlo con parole allegre, ma non ne trovava. «Avete sentito che rumore?» «La casa è già crollata». «Poh! È vero!» mormorò lui meravigliato. «Doveva essere la casa. Ho sentito tremare tutto. Stamattina, vedendoli sul tetto, avevo chiuso la porta». E fece un gesto come per dire che quelle cose non gli importavano più. Tutte le volte che tornava davanti alla cassa, guardava il sedile vuoto, quel sedile di velluto sul quale erano cresciute sua moglie e sua figlia. Poi, quando in quel suo moto perpetuo giungeva dall'altra parte, guardava gli scaffali nei quali finivano da muffire le stoffe. Quanti egli amava erano partiti. Il suo commercio finiva vergognosamente. Lui solo passeggiava col cuore morto e l'orgoglio domato in mezzo a quelle disgrazie. Alzava gli occhi verso il soffitto nero. Ascoltava il silenzio sepolcrale che veniva dalle tenebre del salottino da pranzo. Quell'angoletto familiare di cui già gli piaceva perfino il puzzo di chiuso. Poi, il suo passo regolare e pesante, faceva risuonare le antiche muraglie come se lui avesse camminato sulla tomba di quanto aveva amato. Finalmente, Denise disse perché era venuta. «Zio mio, non potete restare così. Bisognerebbe risolversi in qualche modo». Badu, senza fermarsi, rispose «Certo, ma che devo fare? Ho cercato di vendere e nessuno…» «È venuto! Una mattina o l'altra chiudo bottega e me ne vado!» Lei sapeva che del fallimento non c'era più da aver paura. I creditori avevano preferito accontentarsi alla meglio davanti a tante disgrazie. Pagato tutto, lo zio si sarebbe trovato per la strada. «Ma dopo che farete?» riprese lei, cercando un modo di giungere all'offerta che non osava dirgli. «Non lo so. Qualcuno mi raccatterà». Camminava ora dal salottino alle vetrine e, ogni volta, dava un'occhiata triste alle vetrine dimenticate. Non levava nemmeno più gli occhi alla facciata triunfale del paradiso che, a destra e a sinistra, si perdeva i due capi della via. Era tutto finito. Non aveva bisogno.